Ricordavo ieri un incontro fatto con molti di voi che il tema dell'energia è un tema che si traduce poi in PIL e una regione come Veneto che dà 180 miliardi di PIL all'anno di produzione e quindi anche con gettito fiscale nel momento in cui va in difficoltà, ma in difficoltà l'intero paese. Fermo restando che se non si interviene, oltre a spalancare la porta della povertà a moltissime famiglie, avremo anche il grosso guaio di lavorare, di agire su un mercato dove la perequazione sui costi energetici non ci sarà pensato.